Cosa significa avere oggi un'attività agricola nelle Marche ed essere supportati dal PSR? Il PSR è una grande opportunità, essere un'azienda agricola significa comunque confrontarsi con tutte le problematiche che hanno le aziende di piccolissime dimensioni, come sono le aziende del sud delle Marche di cui la mia famiglia con l'azienda fa parte e l'opportunità del PSR per quello che ci ha riguardato, per quello a cui siamo interessati è quello di fare ricerca, sviluppo e innovazione su un settore che è un po' indietro da questo punto di vista. Ci sono tantissime possibilità, tantissime opportunità per quello che riguarda la possibilità di innovare migliorando la qualità e la sostenibilità ambientale.